Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consueto appuntamento settimana e con il riassunto di tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia della settimana e cominciamo parlando di Canonical. La scorsa settimana si è fatto un gran vociare su un post pubblicato dal consiglio della comunità di Ubuntu nel quale veniva spiegato come tutte quante le distro che utilizzano i software rilasciato da Canonical e la sua comunità e lo usino come prodotto derivato, un esempio Linux Mint, debbano firmare un accordo di licenza per poterlo ridistribuire. Questo perché? Perché Canonical va a tutelare il logo e il nome di Ubuntu per potersi difendere da eventuali cause illegali. Allo stesso tempo il team di Ubuntu ha fatto sapere che da par su non intende far firmare nessun accordo alle derivate e vedersi Netrunner. Dalle versioni di sviluppo di Ubuntu arriva poi un gradito ritorno. Ubuntu 14.04 all'ETS avrà la possibilità di attivare i RIM, che cos'è? Una funzionalità che consente di avere i menu delle applicazioni direttamente nella barra del titolo. Questo per evitare che poi, in classico caso, vi trovate con una finestra del terminale che non è massimizzata su uno schermo grande potete accedere direttamente ai menu nella barra del titolo senza dover passare per la gomma al menu bar quindi andare sul pannello di Unity in alto in alto. È una migliore gestione degli spazi e fa piacere che venga inserita. Parlando di Ubuntu, Ubuntu Phone OS, Canonical ha pubblicato poi in settimana l'annuncio riguardante l'inclusione nel suo ecosistema di nuovi partner che potranno migliorare l'esperienza finale degli utenti. Questi nuovi partner, la maggior parte, miglioreranno l'esperienza multimediale. Fa piacere anche vedere che VLC sarà presente su Ubuntu Phone. Arriva anche poi il tanto atteso annuncio del nome dei due produttori che si occuperanno di realizzare fisicamente i P-device con Ubuntu Phone che verranno distribuiti sul mercato nel 2014. I due partner sono BQ che è un produttore spagnolo e Meizu, il famoso produttore cinese di cui già avevamo parlato nelle scorse settimane quando avevamo parlato dei Meizu MX3 equipaggiati con Ubuntu che erano stati pubblicati alcuni video record di questo device. Quindi molto probabilmente sarà quello il device che verrà papabile che verrà realizzato da Meizu. Meccanismo di ventita dell'Ubuntu Phone direttamente sul sito sia BQ, Meizu che Ubuntu.com. Non vediamo l'ora di vedere i device che verranno presentati al Mobile World Congress e vedremo anche soprattutto non soltanto i device ma anche quando verranno a costare. Restando in tema telefonia sono stati annunciati due nuovi smartphone da parte di ZTE e Alcatel equipaggiati con Firefox OS. Nella fattispecie la nuova versione Firefox OS 1.3. Entrambi i dispositivi hanno una stessa piattaforma comune e montano processori dual core. Questo fa pensare che appunto l'ondata di tutti quanti i device con Firefox OS che verranno rilasciati quest'anno dai vari produttori sarà appunto a rialzo col dual core. Caratteristiche più recenti adesso vedremo la versione di Firefox OS 1.3 se sarà a l'altezza. Perché diciamocelo francamente la prima versione di Firefox OS non era tanto prestante non era soltanto un problema hardware ma anche un problema software. Vedremo appunto anche durante il Mobile World Congress questi due device. La notizione della settimana è senza roba di dubbio l'acquisto di WhatsApp da parte di Facebook o meglio l'acquisto delle rubriche telefoniche degli utenti perché diciamocelo francamente Facebook ha acquistato WhatsApp semplicemente per avere il parco rubriche telefoniche che come ben sapete per poter utilizzare WhatsApp dovete concedere la vostra rubrica telefonica. La cifra si fa per dire solamente 19 miliardi di euro divisi in maniera mista parte in contanti, parte in azioni parte con obbligazioni e una cosa del genere. Comunque sono soldoni. Molti utenti si sono appunto interrogati sulle questioni legate alla privacy perché come ben sappiamo Facebook non è quello stinco di santo per quanto riguarda la gestione della privacy degli utenti e si sono iniziati a guardare intorno quali altri client potrebbe sostituire WhatsApp. Ebbene, tra i client che attualmente sono disponibili quello che promette una maggiore attenzione alla privacy è senza ombra di dubbio Telegram. Telegram lo potete installare sia su Android che iOS però sono presenti anche client per poterli utilizzare su desktop su Windows, su Linux c'è anche un'estensione per Google Chrome ha delle funzionalità interessanti è multiplattaforma è parzialmente open source quasi tutto open source e appunto il fatto di essere open source contribuisce ad aumentarne la stima da parte degli utenti Linux anche perché poi è possibile sviluppare delle applicazioni di terze parti è già stata sviluppata per esempio un'applicazione di terze parti per Windows Phone cioè quindi se sapete mettere mani al codice potete anche creare le vostre applicazioni di terze parti è simbatico, io l'ho installato installatelo anche voi sempre dal mondo della telefonia arriva l'annuncio da parte di Google del project Tango si tratta di uno smartphone avveneristico realizzato dallo stesso team di acquisizione motorola che ha sviluppato il telefono modulare non so se ve lo ricordate che cosa è in grado di fare questo smartphone? questo smartphone è in grado tramite la fotocamera una serie di sensori studiati appositamente è in grado di mappare in tempo reale la realtà che ci circonda voi camminate con questo smartphone acceso per esempio salite le scale l'androne delle scale del vostro condominio lo smartphone riprenderà in tempo reale la vostra camminata la vostra scalinata e crea un modello tridimensionale della scalinata con dimensioni reali il contatto, camminate per casa oppure ci sono applicazioni connesse per esempio alla realtà aumentata potete realizzare una piantina di casa vostra camminando poi aggiungerci reale per il giocare con applicazioni in 3D in tempo reale con la realtà aumentata è un interessantissimo progetto che speriamo di vedere nel futuro prossimo sui device in commercio per adesso è un progetto sperimentale ovviamente come è giusto che sia però comunque anche poi applicazioni particolari per esempio è possibile utilizzare per le persone ipovedenti per poter visitare luoghi sconosciuti perché una volta che è stata mappata l'interno di un edificio l'ipovedente con lo smartphone con la guida vocale dello smartphone potrà conoscere l'ambiente che lo circonda senza ausilio di altri quindi tante tante applicazioni che vedremo appunto potranno anche aumentare tutto sta nella fantasia degli utenti dei sviluppatori Enrico, anche a maglietta bianca ha pubblicato i suoi primi post su Marcosbox entrambi questi post hanno un filo di conduttore che è quello di praticamente come controllare il nostro pc ovviamente con Linux ma questo era a dirlo tramite smartphone equipaggiato con Android andatevi a leggere entrambi i post perché sono molto interessanti e sono anche tecnici quindi se volete qualche notizia qualche cosa qualche guida più tecnica Enrico è l'uomo giusto che riesce a fare queste cose speriamo che faccia altri post nel corso delle prossime settimane passiamo ora all'ambito videoludico Ambre Bundle ha lanciato l'indie Bundle 11 grazie a cui potremo acquistare una serie di giochi indie scegliendo noi il prezzo conoscete già questo tipo di piattaforma conoscete già come funziona i giochi sono di RMF e sono disponibili anche per Linux vediamo adesso il mondo dei desktop Vincenzo ha pubblicato un interessante editoriale su Nepomuk che va a fare le pucce a un articolo scritto da Foronix riguardo Baloo Baloo che cos'è? è una reimplementazione della part storage di Nepomuk KDE al fine di rendere più efficace gestibile, estendibile e quant'altro non è un progetto come era stato scritto erroneamente da altri che esce all'improvviso e va sul classarene comunque e tutti metterlo da parte perché appunto è una reimplementazione la scorsa settimana abbiamo poi parlato di Krita il famoso programma di pittura digitale presente su KDE ma anche su Windows il team di sviluppo aveva tentato la scalata a Steam presentando Krita su Steam Greenlight dopo una settimana Krita è riuscita a superare la soglia critica di apprezzamento da parte degli utenti e quindi adesso è diventato un progetto degno di far parte di Steam a breve vedremo Krita su Steam dal mondo GNOME arriva il consueto riassunto con le novità che troveremo su GNOME 3.12 e dei ritocchi che troveremo su molti software del tanto amato desktop, del piedone io non è che lo digerisco poi tanto il team ha rilasciato la prima beta di GNOME 3.12 beta che potete installare a vostro rischio e pericolo e sottolineo tante di quelle volte a vostro rischio e pericolo anche su Fedora 20 tramite un repository esterno non ufficiale poi trovate il post come farlo a vostro rischio e pericolo Ikea ha rilasciato poi nella giornata di ieri il repository ufficiale per Fedora 20 e OpenSUSE 13.1 ma anche c'è stato un repository non ufficiale per Archlinux di Bougie Desktop che cos'è? è un desktop environment progettato per il suo progetto Evolver OS la particolarità di questo desktop è che è quello di avere un look passatemi il termine perché poi i che potrebbero arrabbiarsi per questa cosa simile a quello di Chrome OS è semplice, leggero una riprendimentazione fa quello che tutti quanti vorrebbero perché diciamo francamente l'aspetto classico con il pannello in basso è sempre più apprezzato da parte degli utenti è basato su Gnome su GTK poi andate a vedere se avete una di queste queste tre distribuzioni fateci un salto fateci un pezzerino provatelo ovviamente non c'è manco da precisare che è un progetto in via di sviluppo quindi è una preview non è non è comprito anzi se avete praticità con il codice volete contribuire a questo progetto e vi piace potete contattare i chi e contribuire attivamente il rilascio di Bugi è servito poi a Vincenzo di ispirazione per un post un piccolo editoriale che ha realizzato su diciamo così l'insana passione verso i desktop environment che si ha nel mondo GNU Linux andate per la legge che è molto interessante siccome nel mondo GNU Linux non ci facciamo mai mancare GNU Linux abbiamo anche l'angolo del mistero perché che è successo settimana era trapelata una indiscrezione riguardo il nome in codice di Debian 9 indiscrezione che poi era stata riportata anche da Furonix riportata su Wikipedia poi si è percorso la cascata un'indiscrezione che però non è stata né confermata né smentita è stato appunto annunciato questo nome in codice di Debian 9 però non si sa se è vero non si sa se è fake non ve lo dico nemmeno andate per la legge perché appunto non si sa nel dubbio non ve lo dico nemmeno nel video come di consuleto arriva anche il consuleto post su Manjaro perché i team di Manjaro non sa stare senza fare senza rilasciare ISO almeno 3 o 4 alla settimana sono state rilasciate le nuove release candidate per Manjaro 0.8.9 nelle versioni XFCE e Openbox il rilascio di queste nuove release candidate è da imputare ad alcuni componenti che sono stati retrocesse alla versione precedente per problemi di incompatibilità notizia poi fresca fresca di giornata intanto atteso rilascio di Tanglu 1.0 finalmente qui finalmente potete provarlo finalmente in pianta stabile fateci un salto vi ricordo che appunto Tanglu è questo progetto basato su Debian Testing con delle contaminazioni di pacchetti da Ubuntu il riso principale attualmente è quella con KDE quella con GNOME diciamo che è una preview perché il team non è completamente disponibile non è completamente appunto formato vedetela vedete se vi piace Italo Vignoli ha realizzato pubblicato poi sul sito Libre Italia una interessante tabella che mostra Libre Office comparato con Microsoft Office e altri progetti poi open source come Apache Open Office doveva confrontare il supporto linguistico di questi di questi suite d'ufficio ebbene tra tutte quante le suite d'ufficio Libre Office è quella di offre un più ampio supporto linguistico nelle più disparate lingue del mondo un punto a favore di Libre Office appunto che si conferma una listo cioè una listo una suite d'ufficio per tutti che abbatte anche i confini linguistici Stefano ha poi pubblicato il suo consueto riassunto da un mondo di OpenStreetMap fra le notizie presente ce n'è una che è particolare che ha riscorso poi è stata riportata anche da diversi siti il primo che l'ha riportato è stato Wired di una notizia appunto divertente che fa riflettere alle Olimpiadi di Sochi le mappe di OpenStreetMap surclassano di Gregong quelle realizzate da Google Maps cioè la community riesce ancora in questo caso perché non è il primo caso in cui la community surclassa qualcosa di proprietario qualcosa che ha la potenza economica e quindi secondo il centro comuno dovrebbe essere migliore ma in realtà non è così concludiamo con una notizia connessa di Open Data oggi 22 febbraio si celebra in tutto il mondo l'Open Data Day con una serie di eventi organizzati nelle varie città quindi buon Open Data Day a tutti quanti se siete in uno di questi eventi poi magari fatemelo sapere lasciate un post un commento su che cosa avete fatto se vi è piaciuto quant'altro con questo concluso ci vediamo la prossima settimana con il riassunto salvo poi eventuali video infrasettimanali lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima ciao ciao